Bene amici sportivi, benvenuti a questo secondo appuntamento stagionale con Totomarket Scommesse. Siamo in onda sulle frequenze video del gruppo MediaOne. È una settimana in cui c'è qualche campionato in meno, anzi molti campionati in meno da esaminare o sui quali poter poi giocare eventualmente, perché ci sono impegni della nazionale, di quasi tutte le nazionali europee, quindi porremo un po' più di attenzione sulla Serie B, daremo uno sguardo anche alla prima divisione e per quanto riguarda i campionati esteri spostiamo il tutto alla prossima settimana. Daremo uno sguardo se ci arriviamo anche ai campionati brasiliani, quello brasiliano e quello argentino che non sono in sosta questa settimana. Vi direi di cominciare a ricordarvi subito quali sono gli orari di questa nuova stagione calcistica per quanto concerne la nostra trasmissione, che va in onda sulle frequenze di TeleOne, sul canale 19, il venerdì e il sabato, il venerdì alla mezzanotte e mezza in pratica, il sabato alle ore 10.30 del mattino, poi su Antenna 1 abbiamo il programma, il giovedì alle ore 23.30, vi ricordo che Antenna 1 è sul canale 185 e poi ancora su VideoOne, cioè il canale 196, il venerdì alle ore 19 e ancora su TelePalermo, sul canale 641, il giovedì ed il venerdì sempre alle ore 23.00. Se avete qualcosa da comunicarci, qualcosa anche da chiederci, qualche telespettatore della provincia di Trapani ci ha chiesto di vedere anche il cammino del Trapani, oggi vedremo le evidenze della partita che il Trapani giocherà fuori casa sul campo del Varese, dalla prossima settimana vedremo anche il cammino sia del Trapani sia del Palermo, quindi per comunicare con noi avete due mezzi, un indirizzo email che è il cinachiocciolatotomarket.it o un numero di telefono a quale mandare solo ed esclusivamente sms perché è abilitato solo alla ricezione di sms ed è il 320 5626794, vi ricordo che questo programma va in collaborazione con un free press che è tra i più, diciamo, preferiti dai elettori, si chiama solo scommesse calcio ci sono moltissime, quasi tutte le classifiche dei campionati che interessano per chi deve scommettere questa settimana è un numero un po' particolare perché appunto è stato dato più spazio alle qualificazioni mondiali sono le ultime, l'ultima settimana in pratica, gli ultimi due turni che stabiliranno tante cose a parte l'Italia che comunque insieme all'Olanda è già approdata al turno successivo a proposito di solo scommesse calcio volevo farvi vedere la prima pagina del giornale di questa settimana ripeto, lo potete trovare in tantissime agenzie della Sicilia ma anche in parte della Calabria per le agenzie che dovesse essere interessate il numero di telefono è quello che vedete in questo momento per richiederlo, questa rivista nella vostra agenzia, ripeto è una rivista gratuita per i elettori il numero è il 389 25 78 787 e la scorsa settimana tra l'altro ha dato buoni suggerimenti ai elettori perché come vi facciamo vedere adesso nella prima pagina i cinque pronostici che erano stati dati nello spazio riservato a occhio ai consigli tutti e cinque suggerimenti sono stati presi avevamo infatti suggerito il segno 1 nel primo tempo in Napoli-Livorno e Napoli già alla fine del primo tempo vinceva 2 a 0 avevamo suggerito l'over 05 nel primo tempo per Inter-Roma vi ricordo che over 05 nel primo tempo vuol dire che ci sia almeno un gol in quella partita indipendentemente da quale squadra lo segni l'importante è che ci sia almeno un gol addirittura la Roma a Milano già nel primo tempo aveva strapazzato l'Inter poi Bologna-Verona avevamo suggerito l'over 1.5 e si è verificato addirittura Verona è andato a stravincere sul campo del Bologna in Catania-Genoa ci piaceva il gol cioè che entrambe le squadre segnassero almeno un gol questo vuol dire gol mentre il no gol vuol dire che una delle due squadre non riesce a segnare in Catania-Genoa il gol è venuto partita che è finita 1 a 1 per quanto riguarda Lazio-Ferentina avevamo suggerito la somma gol pari vi ricordo che per pari io e tutti insomma si intende la somma gol pari non il pareggio tra quelle due partite e io vi ricordo suggerisco sempre quando vedete una partita da pareggio e volete diciamo si rischiare un po' meno perché l'X può sempre saltare giocate la somma gol pari lì dove vedete il pareggio tra due squadre perché se il pareggio non viene la somma gol pari può essere presa ugualmente con un risultato in cui c'è una somma gol pari quindi 2 a 0, 0 a 2, 1 a 3 o 3 a 1, 4 a 0, 0 a 4, 4 a 2 o 2 a 4 questi sono tutti risultati con somma gol pari che vi consentono di non perdere anche se la partita che voi avevate previsto da pareggio non dovesse finire in parità Lazio-Ferentina a noi piaceva molto la pareggio ma alla fine pareggio è anche stato 0 a 0 ma ripeto per essere più prudenti avevamo suggerito la somma gol pari andiamo avanti perché non era soltanto questo il suggerimento che è andato a buon fine nel giornale, la pagina 8 ricordiamo avevo messo questi suggerimenti una scommessa per il venerdì, una per il sabato e una per la domenica come vi dico sempre soprattutto quando si tratta di mettere in gioco 4 o 5 risultati è pure scritto nel giornale, ve lo rifaccio vedere ancora una volta noi non consigliamo di giocare tutta la cinquina infatti è specificato di giocare, se dovete prendere in considerazione questo pronostico di giocare la correzione di un errore cioè anziché la cinquina giocate le 5 quaterne se proprio non potete scommettere 5 scommesse nelle 5 quaterne al limite togliete una delle partite, quella che magari vi piace di meno o quella che magari è un pochettino più rischiosa qui per esempio nella scommessa del venerdì c'era questo over tra Chamois e Nancy un over pagato a 2,45 è venuto addirittura 2 a 2 già mi pare alla fine del primo tempo però era piuttosto rischioso per essere una partita di serie B francese l'abbiamo preso perché nel nostro computer insomma dal punto di vista statistico c'erano molte indicazioni che richiedevano l'over ve l'abbiamo suggerito, ripeto, anche perché il serie B in Francia nella serie B francese è anche bagato tanto proprio per questo motivo perché in genere in Francia gli over nella serie B francese sono piuttosto rari dicevamo in questa scommessa del venerdì poi c'era l'over 1,5 del Bastia contro l'Oriente del Venuto l'over 1,5 di Villarreal che era pagato pochino a 1,25 la somma col pari in una partita di serie B olandese al Mere contro il Venlo e poi avevamo la somma col pari per Politi Misoara contro il Corona vi ricordo che la somma col pari generalmente paga circa una volta e 80 la posta cioè quasi il doppio tutte e 5 sono stati presi chi ha giocato le 5 quaterne quindi anche se c'era qualche quota bassa come vedete alla fine chi ha giocato le 5 quaterne se ha giocato per esempio 2 euro su ogni quaterna praticamente 3 euro su ogni quaterna per esempio ha speso 15 euro ma ha vinto alla fine 40 volte la posta cioè quasi 200 euro nella scommessa di sabato su 5 risultati ne abbiamo presi 4 e qui vedete ancora una volta il suggerimento che vi dico sempre non giocate la cinquina giocate con la correzione di un errore perché in questo caso è stato sbagliato l'1 del Lanciano Novara è sbagliato anche alla grande perché il Lanciano ha dato a vincere addirittura 3 a 0 sul campo del Novara confermando di essere una grossa sorpresa in questo campionato di serie B abbiamo sbagliato Novara-Lanciano però prendendo gli altri 4 risultati ha vinto circa 5,5 volte la posta la quaterna dove si sbagliava il Novara quindi prendendo gli altri 4 e negli altri 4 pur essendoci quote abbastanza basse per esempio nell'over 1,5 di QPR Bansley che era pagata 1,22 e l'1,33 del primo tempo over 0,5 di Inter e Roma nonostante queste due quote basse e le altre due non erano certamente altissime a 1,80 la somma gol pari di Lati Mariam e l'over di Liers Mons a 1,90 nonostante queste ha pagato 5 volte e mezzo la posta chi aveva giocato le 5 quaterne aveva giocato 5 volte la posta quindi di poco ma addirittura vinto non ha perso stesso discorso è un po' meglio per la scommessa della domenica delle 5 le 5 pronostici che avevamo fatto l'over 1,5 di Tottenham West Ham l'over del Marsiglia Paris Saint Germain è stato preso l'over di Napoli Livorno è la somma gol pari di Lazio Fiorentina abbiamo sbagliato soltanto l'over di Cuneo Real Vicenza che è finita 1 a 1 quindi ci sono stati due gol bastava giocare l'over 1,5 qui per entrare di nuovo tutte e 5 invece l'over l'abbiamo sbagliato pur sbagliando l'over di Cuneo Real Vicenza la quartina che è entrata ha pagato 7 volte e mezzo la posta quindi chi ha giocato 3 euro per le 5 quaterne quindi 5 per 3 15 euro ne ha spesi 15 ma qualcosa l'ha vinta lo stesso perché ha vinto 7 per 3 21 quindi oltre 22 euro questo ripeto sempre per suggerirvi per ricordarvi che meglio giocare con la correzione di un errore che non dicevamo la scommessa tutta per intero se si si sa accontentare si vince un pochettino più spesso andiamo a vedere in serie A anche se questa settimana sosta ma giusto per dare un giusto tributo a questa Roma che sta giocando un inizio di campionato inizio insomma adesso siamo arrivati già a 7 partite 7 vittorie 20 gol fatti un solo gollo subito una Roma che sta un po' strabiliando un po' tutti vero è che a Milano contro l'Inter alla fine ha vinto nettamente per 3 a 0 ma è anche vero insomma che ha sfruttato proprio al massimo quelle poche occasioni che ha avuto tra l'altro giocava contro una squadra l'Inter che insomma in questo periodo di campionato diciamo che anche l'Inter ha sorpreso un po' in positivo quindi un Inter in palla e nonostante questo la Roma ci è andata a vincere 3 a 0 quindi una Roma che sta dominando questo campionato per quanto riguarda la Serie A comunque torneremo a parlare con Dovizia di particolare la settimana prossima quando appunto ci sarà il ritorno del campionato però adesso vi faccio vedere la classifica dei marcatori dove Cerci del Torino è in testa con 6 gol seguito da Amsic e Giuseppe Rossi Amsic del Napoli e Giuseppe Rossi della Fiorentina e poi seguono i vari Calleione, Florenzi poi Balotelli, Barrientos eccetera tutti i giocatori con 3 gol da notare che Balotelli sto notando nel primo tempo di gol non ne ha segnati nessuno tutti e tre i gol segnati da Mario Balotelli sono tutti e tre nel secondo tempo lo stesso discorso dicasi per Iguain e Giorginio Giorginio del Verona tre gol li hanno fatti entrambi e tutti e tre li hanno fatti nel secondo tempo per quanto riguarda invece a casa e fuori non vedo molte particolarità da notare che comunque Cerci del Torino dei suoi sei gol tre li ha realizzati su calcio di rigore andiamo adesso alla Serie B che ci interessa un po' più da vicino visto che questa settimana l'attenzione è proprio catalizzata sulle partite di Serie B che si giocano di domenica tranne due partite quelle dello Spezia se non ho detto errato quella della Regine e poi la partita del Carpi che invece si giocherà il lunedì una classifica un po' orfana ancora del risultato tra Carpi e Padova che hanno una partita in meno sta dominando è in testa questo Lanciano un po' a sorpresa unica squadra imbattuta fino a questo momento della Serie B perché sinora ha collezionato cinque vittorie e tre pareggi e ripeto nessuna squadra è riuscita a mantenere l'imbattibilità tranne appunto questo Lanciano è un Lanciano che non ha il miglior attacco del campionato perché il miglior attacco ce l'ha il Siena che è a quota 8 perché ha 5 punti di penalizzazione quindi un Siena a quota 15 gol già fatti però il Lanciano non ha il miglior attacco però ha la migliore difesa ha subito sinora soltanto tre gol nelle otto partite che sinora ha giocato le siciliane il Palermo è a quota 11 insieme al Modena il Trapani invece è a quota 9 ricordiamo che la settimana scorsa Trapani ha pareggiato in casa contro il Latina ma avrebbe meritato di vincere la partita contro il Latina quindi un Trapani che continua a raccogliere meno di quello che in effetti esprime in termini di gioco il Palermo invece è riuscito a pareggiare fuori casa a Brescia e quindi ha conquistato un altro punto che l'ha portato a quota 11 in campionato ricordiamo a quei pochi che non lo sapessero che quest'anno c'è questa novità che vedrà due squadre direttamente promosse in Serie A quelle che arrivano ai primi due posti i playoff sono estesi a sei squadre quindi c'è molta possibilità affinché ripeto questo si possa si possa disputare perché dipende anche da un particolare legato alla differenza di punti che ci può essere fra la sesta che doveva partecipare ai playoff e la squadra invece che è al al secondo posto dicevamo per quanto riguarda la Serie B andiamo a vedere adesso anche la classifica dei marcatori della Serie B giusto per ricordare che c'è Pavoletti del Varese che continua a segnare con una estremità con una facilità estrema sette gol per Pavoletti del Varese cinque gol invece per ben quattro giocatori tra i quali troviamo Mancosu Matteo Mancosu del Trapani gli altri sono Babacar del Modena che è in ottima forma Hernandez del Palermo e Torromino del Crotone Torromino però ricordo che ha segnato parecchi rigori ben tre rigori Torromino del Crotone e tre rigori comunque di tre rigori ha usufruito anche Hernandez del Palermo mentre Pavoletti e Babacar tutti i loro gol li hanno segnati tutti su azione stavo notando sempre per quanto riguarda la B che Caraccelo che ha quattro gol segnati del Brescia è a quota quattro gol e li ha segnati tutti e quattro in casa non ha mai segnato in trasferta appunto Caraccelo fino a questo momento allora della serie B facciamo anche un piccolo riepilogo giusto per vedere un po' la situazione per quanto concerne una cosa che diciamo sia molti scommettitori può interessare cioè il risultato più frequente in serie B continua ad essere l'1 a 1 dico continua perché anche l'anno scorso era un risultato molto molto frequente l'1 a 1 in serie B sinora è uscito 16 volte il secondo risultato più frequente è stato l'1 a 0 con 13 uscite poi lo 0 a 0 con 9 poi ancora il 2 a 1 con 7 uscite 3 a 1 con 6 e poi lo 0 a 1 anch'esso con 6 uscite ricordo che sono giocate sinora 87 partite manca l'88 quella appunto tra Carpi e Padova sinora ci sono state 37 vittorie in casa contro le 19 in trasferta quindi in casa si vince in genere il doppio delle volte in cui si vince fuori 31 sono stati i pareggi la squadra la partita con più gol è stata quella di Siena tra Siena e Crotone con 7 gol finita 5 a 2 per quanto riguarda invece le altre sono 3 partite con 5 gol Siena siamo con 6 giocatori fermati a giudice sportivo di questi 2 sono del Lanciano e cioè Aquilanti e Tiam per il resto squalificati in B a Cardi dell'Empoli Giannetti del Siena che è un giocatore che ha segnato tanto fino a questo momento poi Budal del Brescia e Ragusa del Pescara uno sguardo alla prima divisione sia per quanto riguarda il girone A che per quanto concerne il girone B visto che tra l'altro questa settimana saranno un po' più sotto i riflettori vista la mancanza di tanti campionati in campo europeo prima divisione il girone A comanda la Binola F insieme alla Provercelli e all'Entella e vi ricordo che per quanto riguarda la prima divisione A è cambiato il regolamento anche quest'anno che è un anno diciamo così di transizione per la prossima stagione dalla prossima stagione dal prossimo anno ci sarà una serie una prima divisione unica formata da tre gironi da 20 squadre ciascuno per arrivare a questo quest'anno ci sono delle variazioni che tra poco vi farò vedere un po' meglio con l'ausilio della grafica per le quali nei due gironi di prima divisione viene promossa della prima squadra le altre due verranno fuori da dei playoff che sono legati praticamente alle 2-4-6 alle squadre che arrivano dal secondo al nono posto questo vale sia per il girone A dove stavo dicendo comandano in questo momento a Binola F Provercelli ed Entella non ci saranno retrocessioni dalla serie della prima divisione alla seconda divisione lo vediamo questo comunque meglio tra poco però adesso mi interessa ricordarvi che nel girone A la capolista una delle tre capoliste a Binola F è quella che ha segnato di più sinora mentre la migliore difesa ce l'ha la Virtus Entella ricordiamo che la Propatria ha un punto di penalizzazione e Vicenza invece ne ha avuti quattro nel girone B nel girone B comanda il Ponte che si è già staccato di tre punti dalle squadre che inseguono vi ricordo che in questo girone c'è una squadra che ogni settimana sosta perché è un girone composto da un numero di squadre dispari 17 per l'esattezza quindi a turno una squadra riposerà per il nostro computer ma comunque in genere praticamente ogni sosta significa una partita in meno che noi segnaliamo con un asterisco il Gubbio ne ha due asterisco perché oltre ad avere già usufuito il suo turno di riposo deve anche recuperare una partita vi facevo notare in questo girone B che il Barletta pensate un po' è la squadra che dopo sei partite ancora non ha fatto neanche un gol d'altronde è già terzo ultimo in classifica però nonostante questo ci sono squadre che hanno già fatto per esempio sette gol come la Nocerina che è penultima però la Nocerina teniamo anche presente ha avuto due punti di penalità quindi in effetti sul campo la Nocerina dei punti ne ha conquistati tre comunque il Barletta è l'unica squadra che non ha ancora segnato quindi per chi volesse seguire o chi piace giocare sul casa segna o fuori segna questa è un'indicazione che può essere vi utile il Barletta lo giocherei come squadra che segna questa settimana perché prima o poi insomma un suo colletto lo farà migliore attacco Ponte d'Era capolista tra l'altro in questo girone già vediamo che ci sono tre squadre che ancora non hanno perso appunto il Ponte d'Era il Prato ed il Catanzaro andiamo ancora avanti per vedere appunto ecco un riepilogo del nuovo regolamento per quanto riguarda l'Alegra Po vi dicevo che quest'anno i campionati sono divisi nei due gironi come al solito nella prima divisione due gironi uno da 16 e uno da 17 squadre mentre nella seconda divisione i due gironi sono entrambi di 18 squadre la promozione in Serie B va direttamente in Serie B la prima classificata dei due gironi le rimanenti due vengono definite dagli spareggi per le otto squadre che arriveranno dal secondo al nono posto non ci sono ripeto retrocessioni dalla prima alla seconda divisione quindi questa è una cosa che vi ricorderemo ancora di più poi a fine campionato per appunto lì dove conteranno insomma i punti per salvarsi o per non retrocedere ecco sappiate sin da adesso che non ci saranno retrocessioni dalla prima alla seconda divisione mentre per quanto riguarda la seconda divisione le ultime sei squadre classificate alla fine del campionato retrocederanno dalla seconda divisione diciamoci nella Serie D nei direttanti e oltre alle ultime sei retrocederanno anche per ciascun girone altre tre squadre che verranno fuori dai play out che si disputeranno tra nono decimo undicesimo e dodicesimo posto questo per quanto riguarda la Lega Pro abbiamo quindi anche chiarito le posizioni di classifica andiamo a vedere allora per quanto riguarda le scommesse vi suggeriamo già di munirvi di carta e penna per usufruire insomma delle nostre indicazioni che ripeto per fino a questo momento si sono mostrate piuttosto diciamo sì fortunate almeno quelle che sono pubblicate su su solo scommesse calcio visto che avete penna e carta in mano vi ricordiamo i nostri orari della nuova trasmissione di questa stagione che va in onda su Tele One canale 19 il venerdì e mezzanotte e mezzo il sabato le 10 e 30 del mattino su Antenna 1 canale 165 il giovedì alle ore 23 e 30 su Video One canale 196 il venerdì alle ore 19 e su Tele Palermo canale 641 il giovedì e venerdì alle ore 23 e vi ricordo che nelle principali agenzie della Sicilia e in parte della Calabria potete trovare questo free press questo giornale gratuito che si chiama solo scommesse calcio Palermo Pescara cominciamo a dare alcune indicazioni in questo caso chiamiamo in causa il nostro computer che ci calcola in automatico molte delle evidenze che possono essere diciamo sì oggetto di studio per migliorare la propria scommessa per Palermo Pescara vi indichiamo a parte la classifica Palermo 11 Pescara 8 il Palermo alterna gol no gol da 7 partite e questo è già una statistica un dato diciamo sì che va un po' fuori statistica difficilmente si trovano squadre che per 7 8 9 turni fanno alterna no gol no gol no gol il Palermo nell'ultimo turno ha pareggiato Brescia 1 a 1 quindi ha fatto gol gol per evitare che continui questa alternanza non dovrebbe venire il no gol quindi si dovrebbe ripetere il gol gol per interrompere l'alternanza di gol no gol del Palermo quindi questa è un'evidenza che ci porterebbe al gol gol per Palermo Pescara però di contro giusto giusto questo è uno di quei casi nei quali le due evidenze vanno un po' in contrasto quindi in questo caso si autoannullano perché per esempio il Pescara ho notato che fuori casa ha fatto per esempio un solo no gol nelle ultime sette partite e quindi questo è anche un dato che invece vorrebbe che il Pescara tornasse a fare il no gol questo per quale motivo vi ricordo tutto questo è dato tutto il fatto che esclusa quelle squadre che sono particolarmente forti all'interno di quel loro campionato quindi che sono il Porto il Benfica in Portogallo il Bayern Monaco il Borussia Dortmund in Germania Real Madrid e Barcellona in Spagna insomma il Paris Saint-Germain in Francia dico quelle squadre che sono un po' sopra la media non diciamo vengono un po' scartate da queste statistiche ma tutte le altre quindi esclusa queste poche squadre nei principali campionatori per tutte le altre il Benumano hanno un andamento piuttosto piuttosto equilibrato e quindi ripeto difficile che facciano sette otto partite senza fare uno gol oppure sempre col gol gira in gira c'è una statistica che si vede che viene abbastanza rispettata e quindi da questo punto di vista ripeto già un solo uno gol nelle ultime sette tenderebbe a far giocare il gol gol per quanto riguarda il Palermo scusatemi un no gol nelle ultime sette tenderebbe al no gol mentre il Palermo vorrebbe il gol gol per interrompere l'alternanza in questo caso ripeto io mi sto dilucando per dirvi non sempre basta una sola evidenza per indirizzare il panostico bisogna vedere anche le evidenze della squadra avversaria questo è un caso in cui appunto non prendiamo decisioni in questo senso non consigliamo né il no gol né il gol gol vediamo le altre indicazioni per esempio il Palermo ha fatto una sola somma gol pari nelle ultime sette partite quindi diciamo potrebbe essere il turno di un'altra somma gol pari e poi un Palermo che in casa non pareggia da sei partite andiamo al Pescara Pescara abbiamo già visto fuori casa ha fatto un solo no gol nelle ultime sette ma visto che le evidenze sono anche messe in ordine di importanza il Pescara per esempio ha fatto una sola vittoria nelle ultime 27 partite chiaramente teniamo conto anche delle ultime partite del campionato scorso quando era in Serie A e comunque la realtà è questa nonostante i suoi otto punti in classifica il Pescara ha fatto una sola vittoria nelle ultime 27 partite e questo è un dato statistico che purtroppo mette nell'anno il Palermo speriamo di no fuori casa non vince da 13 trasferte il Pescara e poi ancora fuori casa subisce gol da 13 ci fermiamo qui perché voglio anche mostrarvi le evidenze di un'altra partita e poi dobbiamo vedere anche le quote ecco qui per esempio già ci sono le quote di Palermo Pescara Palermo favorito l'1 è a 1,80 mentre l'X come al solito quando c'è un 1 preferito già l'X è pagato in questo caso a 3,30 il segno 2 cioè la vittoria del Pescara è pagata 4 volte e mezzo la posta vediamo un po' tra under e over non c'è differenza i quotisti stanno quotando sia l'under che l'over con la stessa quota per quanto riguarda il gol no goal è pagato molto il no goal quindi si crede molto nel fatto che in Palermo e Pescara possono segnare entrambe le squadre noi ripeto per quanto riguarda le preferenze vorremmo il gol per il Palermo statisticamente ma vorremmo il no goal per il Pescara quindi non ci sbilanciamo andiamo avanti vediamo adesso Varese Trapani ripeto un Trapani che continua a giocare bene ma continua a non raccogliere punti questa è una cosa davvero brutta per chi insomma ha cuore le sorti di una squadra siciliana il Trapani anche contro il Latina ha giocato avrebbe meritato di vincere ma non ce l'ha fatta quindi una volta perché per demeriti proprio una volta per fortuna della squadra avversaria una volta per errori arbitrali sto benedetto Trapani nelle ultime quattro partite ha fatto tre sconfitte e il pareggio contro il Latina in casa giocherà adesso Varese brutta brutta gatta da pelare questo Varese perché è una squadra che gioca bene ha raccolto meno del solito io scusate un attimo mi faccio aiutare da solo scommesse calcio perché volevo vedere l'anno scorso il Varese rispetto all'anno scorso sta andando meglio sì perché c'ha già è a più quattro comunque un Varese che è abbastanza solido quindi sarà difficile per il Trapani questa partita tra l'altro è un Trapani che fuori casa segna già da 21 trasferte non è un dato tanto diciamo sì tanto positivo per quanto riguarda la statistica buono per il Trapani però questo lascierebbe anche pensare insomma che prima o poi questo Trapani in trasferta potrebbe anche non segnare io mi auguro che non sia questa la partita mi auguro che Trapani riesca anche a segnare per quanto riguarda il Varese vi ricordiamo che nel primo tempo c'è il ritardo del segno 1 per il Varese da 9 partite cioè nelle ultime 9 partite il Varese in casa nel primo tempo non vince fuori casa nel primo tempo non perde cioè non c'è il segno 1 c'è la vittoria della squadra di casa in casa segna da 8 partite e adesso in casa ha raccolto 3 vittorie consecutive andiamo a vedere adesso anche per il Trapani le quote favorito il Varese un po' meno di quanto è favorito il Palermo sul Pescara l'1 del Palermo è 1,80 l'1 del Varese sul Trapani è 1,90 ma comunque resta favorito il Varese X è a 3,25 il 2 è pagato 4 volte la posta anche qui non c'è molta differenza tra Lander e Lover Lander è pagato un po' meno 1,80 mentre Lover è pagato a 1,90 è piuttosto interessante invece questa doppia scelta chance X2 che è pagata quasi a 1,80 e non è poco vero è ripeto che il Varese è un'ottima squadra ma il Trapani per come ha giocato fino a questo momento meriterebbe senz'altro la possibilità insomma di tentare questa doppia chance X2 pagata soprattutto perché è pagata bene è 1,79 per una squadra che sì in questo momento ha 5 punti di distacco dal Varese ma per come ha giocato in campo il Trapani avrebbe meritato molti più punti di quelli che ha conquistato sinora in classifica uno sguardo al riepilogo di tutte le quote della serie B vi ricordo che Regina Empoli e Spezia Brescia si giocano di sabato che Carpi Novara invece si giocherà nel posticipo del lunedì se vedete è notato proprio questo per quanto riguarda le quote del segno 1 e del segno 2 non ci sono quote basse cioè e questo è testimone ancora una volta all'estremo equilibrio che c'è in questo momento in serie B nessuna squadra si stacca la quota più bassa dell'uno è quella del Siena contro l'Avellino che tra l'altro a noi piace vi ricordo che la cerchiatura indica non la quota più bassa ma il fatto che a noi piace questo questo segno quindi l'uno per Siena Avellino ci piace anche l'over per Carpi Novara che è pagato a 2,10 e ci piace anche l'over di Lanciano Ternana che è pagato a 2,15 dicevamo come quote vedete il segno 1 il più basso è 1,75 quello di Siena Avellino poi c'è l'1,80 di Palermo Pescara c'è tutte quote piuttosto alta poi c'è l'1,90 di Varese Trapani sono tutte quote piuttosto altine nonostante ripeto scuole forti che giocano in casa da notare dicevamo in trasferta la squadra che è quotata meno cioè quella che è più facile che possa vincere è il 2 dell'Empoli fuori casa contro la Regina che è quotato a 2,35 dicevamo le nostre preferenze l'over di Carpi Novara l'1 di Siena Avellino e il 2 no scusatemi è l'over di Lanciano Ternana andiamo a vedere adesso le evidenze sono alcune evidenze scelte tra i vari campionati anche se questa settimana dei campionati ce ne sono molto di meno da esaminare e che trovate comunque a pagina 8 di Solo Scommesse quindi quello che vedete in questo momento se volete insomma rileggerlo con più calma potete farlo avendo insomma in mano una copia gratuita di Solo Scommesse Couch vi segnalo alcune cose per esempio il Bari in Serie B ha fatto un solo over 1.5 nelle ultime 5 partite cioè over 1.5 significa partita con almeno due gol e già insomma una squadra che ne ha fatto uno solo nelle ultime 5 partite è piuttosto raro la prossima partita del Bari è in casa contro il Crotone si gioca di domenica la nostra preferenza è appunto over 1.5 per Bari e Crotone poi il Lanciano anche il Lanciano addirittura ha fatto di peggio un over 1.5 nelle ultime 6 partite quindi anche qui ancora più che in Bari e Crotone suggeriamo l'over 1.5 per Lanciano Ternana a noi addirittura piace anche l'over quello normale quello standard cioè over 2.5 il computer in questo caso over 1.5 e anche il gol cioè che entrambe le squadre segnano a meno un gol non ve le faccio vedere tutte vediamo soltanto questa qui della Ternana Ternana fuori casa un solo over 3.5 nelle ultime 34 trasferte sono tante 34 trasferte prima o poi la partita dove ci sono parecchi gol capita alla Ternana non è mai capitato o quantomeno è capitata una sola volta un over 3.5 nelle ultime 34 trasferte chi vuole ne può tenere conto la Ternana lo ricordiamo gioca domenica fuori casa sul campo del Lanciano in Argentina vi segneriamo che il colon nel primo tempo fa 0-0 da 5 partite potrebbe essere un'indicazione che può portare a giocare per esempio l'over 0-5 nel primo tempo per la prossima partita del colon che è All Boys colon e si giocherà di sabato ancora attenzione anche a quest'altra cosa io non posso farvi l'elenco di tutto ma comunque ce ne sono tante molto interessanti ancora in Argentina le Studiantes ritarda l'over da 10 partite cioè questa squadra negli ultimi 10 partite è fatto sempre under la prossima partita delle Studiantes è in casa contro il Racing si gioca di domenica ovviamente il suggerimento è over mi fermo qui perché ripeto abbiamo anche altre cose da vedere prima della chiusura della trasmissione questi sono invece i pronostici di questa settimana ci sono poche partite di venerdì quindi abbiamo scelto due cinquine per il sabato e per la domenica per le partite di sabato per le partite di sabato innanzitutto vi ricordo che vi suggerisco di giocare le cinque quaterne cioè permettervi di fare un errore dei cinque risultati tra l'altro sto notando recito un mea culpa domenica non c'è Carpinovara Carpinovara si gioca lunedì scusatemi per questa piccola svista ma contenete presente insomma che domenica Carpinovara non c'è si giocherà lunedì quindi potete lasciarla lo stesso nella vostra scommessa anzi è un'occasione per ricordarvi che se nella vostra scommessa ci mettete una partita che poi si gioca magari l'indomani avete la possibilità in caso già la scommessa sia vincente prima dell'ultima partita che si gioca l'indomani la possibilità di potervi coprire noi in questo caso non l'abbiamo fatto in questo caso è stata semplicemente una mia svista ripeto il Carpinovara si gioca lunedì allora sabato per sabato Regina Empoli primo tempo over 05 ci piace molto in Inghilterra C Stevenage contro Brentford ci piace l'over 1.5 ci piace la somma gol pari per il Real Madrid B che si chiama anche Castiglia contro il recreativo Welva somma gol pari normalmente pagata 1.80 ci piace l'uno del Preston la vittoria del Preston in casa contro il Crewe e poi Spezia Spezia Brescia ci piace l'over 1.5 di queste 5 partite vi ricordo giocate con la correzione di un errore oppure togliete la partita che vi piace di meno quella insomma nella quale credete di meno e giocate magari soltanto sulla quaterna per domenica a parte l'over di Carpinovara che abbiamo già parlato ci piace l'uno di Siena Vellino ci piace l'uno di Bradford contro il Tranmere ci piace il fatto che Perugia in casa contro il Pisa segna meno un gol quindi Perugia Pisa casa segna e ci piace poi la somma gol pari per Carrese Pavia anche qui inutile ricordarvelo correzione di un errore cioè le 5 quaterne dove a turno uno di questi 5 risultati viene tolto andiamo a vedere la scommessa una terzina una terzina che può pagare quasi 7 volte la posta dipende chiaramente dalle quote io come riferimento prendo le quote spesso quelle di match point ma solo perché sono quelle diciamo che mi viene più facile da consultare quindi quasi 7 volte la posta per esattezza con le quote match point sono 6,8 volte la posta Siena Vellino ci piace il segno 1 pagata 1,75 l'abbiamo messa anche nell'altra scommessa Cittadella Padova Derby nel quale la somma colpati non ci dispiace ed è sempre pagata 1,80 e poi in Spagna nella sede B Spagnola Lugo Cordoba ci piace l'over pagato bene è anche una buona quota 2,15 questi tre risultati di cui due italiani e uno spagnolo pagano quasi sette volte la posta di queste tre partite le prime due Siena Vellino e Cittadella Padova si giocano di domenica Lugo Cordoba invece si gioca di sabato se non vi piace giocare partite o scommesse nella quale due partite sono la domenica una e poi invece quella di sabato e magari se l'ha sbagliato non c'è più neanche piacere a seguire la partita della domenica allora a questo punto potete sostituirla quella del sabato e magari metterne un'altra ecco perché vi suggeriamo un'alternativa in questo caso vi suggeriamo come alternativa una partita della domenica che è Cuneo Portotolle ci piace l'over 1,5 pagato dipende da vari quotisti 1,40 1,42 si trova anche 1,44 questo per una terzina che paga 7 volte la posta andiamo a vedere quest'altra invece è sempre una terzina che paga un po' di più paga 8 volte la posta e questa volta si tratta di Varese Trapani dove il no goal è pagato alto a 2,20 poi Lanciano Ternana dove l'over è pagato a 1,95 è una partita della Serie B spagnola il Real Madrid Castiglia contro il recreativo Uelva di queste tre partite ancora una volta due sono di domenica una invece si gioca sabato quello tra Castiglia e la Uelva questi tre eventi il no goal del Varese l'over del Lanciano e la somma colpari del Castiglia portano a quasi otto volte la posta se c'è qualcosa di questi tre risultati che non vi piace vi suggeriamo come possibile alternativa un risultato del quale mi avete già sentito parlare cioè l'over 0,5 nel primo tempo per Regina Empoli un over 0,5 nel primo tempo è pagato circa a 1,40 questo è per la seconda scommessa la seconda terzina che vi suggeriamo questa settimana andiamo a vedere un riepilogo invece delle scommesse che abbiamo suggerito sul giornale Carpi Novara over Siena Vellino 1 nel giornale abbiamo suggerito anche l'over di Barcellona B contro il Deportivo La Corugna nella serie B olandese il 2 del Dordrecht fuori casa sul campo dello Young Twente nell'Argentina nel campionato argentino abbiamo già parlato del forte ritardo dell'over delle Studiantes che ha fatto 10 under consecutivi nelle ultime 10 partite quindi ci piace l'over per Studiantes contro il Racing mentre in Brasile ci piace il gol insomma in Corinthians atletico Panarinense per quanto riguarda questa partita quindi che entrambe le squadre riescano a segnare almeno una rete uno sguardo ancora un sistema che tra l'altro in queste ultime settimane ha raccolto buoni consensi e soprattutto buone vincite due settimane fa questo stesso sistema di 11 partite sviluppato in 11 cinquine o in 11 quintuple ha centrato tutte e 11 risultati e quindi hanno vinto tutte e 11 le cinquine la settimana scorsa invece ne ha presi 6 su 11 e sono entrate due cinquine la prima e la seconda di quelle pubblicate sul giornale di quello che vedete adesso sul vostro teleschermo lo sviluppo è pubblicato sul giornale anche perché qui sarebbe troppo piccolo da potervi mostrare si tratta di un sistema di 11 partite in 11 quintuple nelle quali abbiamo messo come partite ce ne sono 5 5 che si giocano sabato e 6 invece che si giocano di domenica abbiamo mescolato serie B con Inghilterra C con Spagna B e anche partite di prima divisione questi sono i pronostici di questo sistema in serie B Regina Empoli primo tempo over 05 in serie B Spezia Brescia over 1.5 quindi come finale in Inghilterra C Preston creve l'uno poi l'over 1.5 del Lugo contro il Cordoba la somma colpare di Castiglia Uelva il no goal di Everest Trapani il casa segna di Perugia Pisa l'uno del Siena l'over 1.5 di Paganese Lecce in prima divisione l'over di Carpi Novara che vi ricordo si gioca lunedì e Bradford il segno 1 è un sistema ripeto di 11 partite sviluppate in 11 quintuple si ha vincita certa cioè almeno una cinquina con 8 9 10 o 11 risultati esatti se se ne prendono soltanto 7 la vincita è probabile al 50% cioè che entri almeno una cinquina e la probabilità è del 50% se invece entreranno 6 risultati su 11 la probabilità che entri almeno una cinquina è del 14% e ancora anche con 5 esatti cioè se non dovessero sbagliare 6 su 11 prendendone soltanto 5 c'è ancora la possibilità di vincere qualcosa anche se è soltanto nel 3% dei casi lo sviluppo potete trovarlo sul giornale solo scommesse calcio un piccolo riassunto siamo in chiusura di trasmissione un piccolo riassunto invece di ciò che è successo sinora in Brasile e ciò che è successo in Argentina anche per fare dei piccoli paragoni ma notiamo che in Brasile per esempio il risultato più frequente continua ad essere l'1 a 1 che è già il risultato più frequente anche nella nostra serie B qui parliamo di Brasile serie A ovviamente il risultato più frequente è finora l'1 a 1 37 volte il 2 a 1 29 volte l'1 a 0 28 volte e poi via via tutti gli altri vi ricordo che in Brasile già siamo arrivati alla 26esima giornata sono giocate 259 partite in Brasile 117 le vittorie in casa e 65 quelle fuori casa quindi siamo quasi con la stessa percentuale della nostra serie B invece le partite con più gol sono parecchie ci sono stati 8 gol in International Vasco de Gama finita 5 a 3 Coritiba Ponte Preta anche questa finita 5 a 3 Q0 Vasco de Gama anche in questo caso 5 a 3 insomma partite parecchie partite con 8 gol abbiamo gli ultimi minuti non pochi sono gli ultimi due minuti di trasmissione e adesso vediamo anche la Argentina vediamo in Argentina dove siamo invece arrivati appena alla decima giornata di campionato Argentina quindi 100 partite giocate fino a questo momento in Argentina il risultato più frequente non è l'1 a 1 ma è l'1 a 0 che è uscito 16 volte l'1 a 1 scusate è anch'esso abbastanza frequente è uscito 15 volte poi lo 0 a 0 con 12 uscite comunque questi sono i tre risultati più frequenti in Argentina l'1 a 0 l'1 a 1 e lo 0 a 0 ma sono ripeto molto vicini tra loro da notare che in Argentina sinora ci sono stati 27 pareggi 12 dei quali per 0 a 0 e per quanto riguarda le partite con più gol beh c'è un 4 a 1 del Verez sull'Atletico un 3 a 2 del Belgrano sempre contro l'Atletico il Boca Juniors contro l'Old Boys finita 2 a 3 insomma 5 gol è stato il massimo realizzato in una partita del campionato argentino noi adesso siamo in chiusura di trasmissione vi voglio ricordare ancora una volta gli orari che sono di questa trasmissione di questa stagione calcistica che abbiamo cominciato dalla settimana scorsa vi ricordo che la trasmissione è unica una sola e va in onda il venerdì a mezzanotte e mezzo su Tele One canale 19 e sempre su Tele One l'indomani mattino e sabato alle ore 10 e 30 il giovedì alle ore 23 e 30 potrete seguirla su Antenna 1 sul canale 185 su Video One invece sul canale 196 il venerdì alle ore 19 e su Tele Palermo invece sul canale 641 Tele Palermo il giovedì e venerdì alle ore 23 se volete comunicarci qualcosa avete l'indirizzo email cina chiocciolatotomarket.it e l'SMS un SMS che è il 320 5626794 e con questo siamo arrivati alla conclusione di questa seconda puntata di Automarket e scommesse ci vediamo la settimana prossima avremo molte curiosità e molte cose da vedere da esaminare con la Serie A e soprattutto con i principali campionati europei di Francia Spagna Germania e Inghilterra per i quali sto preparando già sin da ora del materiale che può essere di vostro interesse da Giuseppe Cina per il momento è tutto grazie e alla settimana prossima